Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti che ci state seguendo oggi pomeriggio alla presentazione di due realtà. Innanzitutto io mi chiamo Cristiano e mi occupo dell'orientamento in entrata di Accademia di Belle Arti Santo Giulia di Brescia e ITS Macchina Lunati, un istituto di formazione post-diploma in diversi settori, in diversi ambiti, dedicate a diverse figure professionali e lo scopriremo oggi. Oggi entriamo proprio nel vivo di una serie di proposte post-diploma attive nella nostra realtà. Sono due ben distinte, ma che rappresentano proprio due elementi importanti, differenti di una scelta post-diploma. Una scelta che è sempre più vicina a livello temporale del vostro percorso di studi. Entrambi i percorsi, infatti, avvicinano sempre di più il vostro percorso formativo, la vostra crescita, la vostra passione, la vostra idea di figura professionale che vorrete ricoprire nel futuro sempre di più nel mondo del lavoro, nel concreto mondo del lavoro. Parleremo di percorsi accademici, quindi che appartengono alla categoria delle accademie di belle arti. Portiamo il nome, appunto, il nostro nome specifico è Santa Giulia e ci troviamo nella città di Brescia. I percorsi accademici sono dei percorsi che appartengono al circuito universitario, quindi al termine del vostro percorso di studi nella scuola superiore, quindi con l'esame di maturità, potrete decidere di frequentare dei percorsi universitari, dei percorsi accademici o dei percorsi legati al mondo degli ITS. Ora, grazie all'aiuto anche del slide, andrò a raccontarvi un po' che cos'è Accademia di Belle Arti, che cos'è Accademia di Belle Arti Santa Giulia e quale tipologie di corsi di percorso si possono attivare all'interno della nostra offerta formativa. Questo è un po' quello che vi stavo raccontando poco fa, la diversificazione del percorso di studi. Al termine dell'esame di maturità lo studente è proprio come questo punto di domanda, nel valore dell'incertezza. E quindi si cerca sempre di aiutarvi a comprendere e a saper leggere la vostra passione, il vostro interesse ai fini del vostro futuro. Abbiamo da un lato il totale abbandono degli studi, quindi il mondo del lavoro, l'inserimento lavorativo con il diploma di maturità e il mondo dell'altra formazione. Con questa caratteristica andiamo a rappresentare tutti quei corsi di aggiornamento, di softwareistica dedicata solamente ad un software specifico nell'ottica lavorativa, quindi molto specifici ma che non portano ad un titolo di laurea riconosciuto. All'estremo opposto invece i percorsi di studio universitari e accademici. Sono ben distinti, non sono un unico blocco, perché in Italia, a seguito di una serie di normative ministeriali, i due enti sono riconosciuti come due organi ben distinti. Il mondo universitario, più conosciuto, più affermato a valore di titolo, e il percorso accademico che a sua volta è suddiviso in enti privati e statali come i percorsi universitari ma legalmente riconosciuti e non. Il fatto di essere un ente come noi, Accademia di Belle Arti Santa Giulia, essere un ente legalmente riconosciuto dal ministero, dell'università e della ricerca, dà la possibilità ai nostri studenti di ricevere al termine del percorso triennale o biennale, in base diciamo alla durata del percorso un titolo di studio equipollente, equiparato per valore numerico di crediti, durata del percorso e contenuti a titoli di lauree triennali, diplomi accademici di primo livello, a titoli di lauree biennali, lauree magistrali o laurea specialistica, diplomi accademici di secondo livello. Il nome del titolo è differente, come è differente anche il nome dell'istituto, non ci chiamiamo Università delle Belle Arti, ma ci chiamiamo Accademia delle Belle Arti. Questo sta a sottolineare che la durata del percorso è la medesima, ma la tipologia di titolo raggiunto al termine del percorso porta un nome differente, ma allo stesso valore legale. Il diploma accademico di primo livello e il diploma accademico di secondo livello possono essere spesi all'interno del territorio nazionale, europeo ed internazionale come un vero e proprio titolo di studi, come se fosse una laurea tradizionale di un vostro collega che frequenta giurisprudenza o economia. La sostanziale differenza sta invece nel contenuto dei percorsi. I percorsi universitari, giurisprudenza, economia, medicina, hanno una formazione prevalentemente di stampo teorico, ma l'aspetto di disciplina è direttamente collegato al progetto. Un progetto che può essere di stampo tendenzialmente scientifico, quindi di ricerca, di supporto di determinate fonti, tesi, a supporto di determinate tesi appunto, quindi metodi di ricerca scientifica, umanistica, ma dedicate al supporto di una tesi, di un obiettivo specifico, di una ricerca. Le accademie invece hanno una formazione alternata. Una parte di disciplina è teorica, una parte fondamentale, la base diciamo di qualsiasi percorso. Un'altra tipologia di lezioni invece è tecnica o laboratoriale. Il metodo didattico che sposano le accademie di belle arti è quello del learning by doing, imparare facendo. Imparo ad utilizzare un software, imparo una determinata professione applicandola direttamente a un progetto che può essere interno ad accademia o che abbia un respiro esterno alla nostra realtà, quindi che sia un continuo dialogo tra le aziende, gli enti del territorio, gli enti del territorio specifici in quel determinato tipologia di studio o titolo di studio. Quindi qui l'approccio al progetto è tendenzialmente di scambio, di creatività, di lavoro continuo, di attività di team building e di gruppo. Quindi proprio un'attività progettuale molto diversificata dei percorsi universitari. La nostra città è Brescia, quindi la sede delle realtà che oggi vi presento è Brescia, un'unica grande sede, disponibile in un unico punto della città, quindi non vi dovete spostare tra un campus o l'altro, è un'unica sede, è strutturata nella prima zona al di fuori delle, diciamo, restrizioni ZTL della città, facilmente raggiungibile con qualsiasi tipologia di mezzo, posso raggiungerla in macchina, vista la vicinanza alle tangenziali e alle principali rete di comunicazione di tutto il nord Italia, posso raggiungerla facilmente dalla stazione della città di Brescia, quindi con diversi mezzi messi a disposizione della città. Sono tre linee di autobus che collegano direttamente la nostra città al centro e alla stazione ferroviaria. Una linea della metropolitana, la nostra sede si trova esattamente tra due fermate, San Faustino e Marconi, situate poi nella linea che va verso il nord della città. Brescia, per chi di voi non la conoscesse, è una città con un ricco patrimonio culturale, fortemente radicata conosciuta anche per il suo ricco tessuto industriale. Ricordatevi sempre che a fianco alla parola patrimonio culturale c'è sempre il tema della sensibilizzazione, i temi dell'arte, del bello, del design, anche della pubblica cittadinanza e a fianco alla parola tessuto industriale c'è appunto un'attenta ricerca all'innovazione e un'attenta ricerca al lavoro, quindi alla parola fondamentale del vostro percorso di studi. Brescia, altra clausola, è stata nominata, confermata capitale della cultura 2023 e quindi avrà il via, una serie di progettazioni, di pensieri, di metodologie legate a questa appunto nominazione che c'è stata data insieme alla nostra vicina Bergamo che porterà una valorizzazione territoriale ai cittadini di questa appunto città. I nostri corsi entriamo sempre di più nel vivo dell'offerta formativa di Accademia Santa Giulia. Qui notate appunto la differenza, i percorsi triennali con il diploma accademico di primo livello e i percorsi biennali con i diplomi accademici di secondo livello. Sostanzialmente Accademia di Bell'Arte di Santa Giulia racchiude il percorsi 3 più 2, quindi la formazione continua. Questo fattore di formazione continua è strettamente sottolineato anche dalla presenza di un percorso triennale che si sposa alla perfezione con un percorso biennale. Pittura, scultura, decorazione artistica sono i corsi triennali dedicati all'arte classica, alla conoscenza del materiale, della crescita e della ricerca artistica di ogni persona. Pittura, scultura e decorazione sono discipline che dialogano tra di loro con competenze differenti, ma anche con caratteristiche del percorso e del progetto totalmente diverse l'una dall'altra. Un tema centrale dei percorsi accademici è quello legato allo spazio, alla gestione, alla creazione, alla riqualificazione di questi spazi. Lo spazio che può essere fisico, visibile, vivibile, quindi uno spazio dedicato allo spazio abitativo commerciale, interior design, tutti gli aspetti di riqualificazione, arredamento, costruzione e decorazione. È uno spazio invece legato allo spettacolo, al teatro, al cinema, alla televisione, allo spazio espositivo. È il corso di scenografia, quindi tematiche simili, caratteristiche simili, ma con opportunità lavorative differenti. Interior design più, diciamo, settorializzato nella tematica del mondo del design, del progetto e dell'arredamento, scenografia invece più espansiva, più spettacolare da un punto di vista, appunto, scenico. I corsi centrali, grafica, web, comunicazione d'impresa e nuove tecnologie dell'arte, anche essi lavorano su tematiche relative allo spazio, ma uno spazio più virtuale, più, diciamo, non vivibile, non tangibile, grafica, tutti gli aspetti di comunicazione, gli aspetti di comunicazione visiva, di identità di un'azienda, di un prodotto, di un servizio. Web e comunicazione d'impresa e tutto lo spazio online, quindi digitale, tutta la comunicazione relativa ai siti internet, alla prototipazione di app, per, anche in questo caso, gli elementi di marchi, prodotti o a territorio servizi. Centralmente abbiamo gli aspetti di comunicazione relativi al linguaggio, al contenuto della rete e alle strategie che ad essi si applicano sui nuovi media. nuove tecnologie dell'arte, un percorso diviso in due competenze, una parte totalmente dedicata al video, quindi alle tecniche di ripresa, di montaggio, di post-produzione, e una parte invece totalmente orientata agli aspetti di animazione tridimensionali, quindi di costruzione di un videogioco fino agli aspetti di creazione di un personaggio. Gli ultimi due percorsi invece sono quello di didattica dell'arte per i musei e di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico che inglobano delle competenze direttamente collegate allo spazio umanistico dell'arte, alla sua narrazione, alla sua lettura e alla sua interpretazione, sia da un punto di vista pedagogico, sia da un punto di vista didattico, sia da un punto di vista di ricerca e di progetto legato ai campi museali e alla riqualificazione di zone o alla loro sponsorizzazione di attività ai fini della rivalutazione e riposizionamento a livello anche turistico o manageriale. Ad ogni triennio si sposa un biennio, quindi pittura con arti visive contemporanee, scultura con scultura pubblica monumentale, decorazione artistica con lo stesso percorso, con lo stesso nome, decorazione artistica appunto, interior design con l'aggiunta anche delle competenze di stampo più urbano, di riqualificazione di zone, quindi di interior e urban design, grafica con l'aggiunta degli aspetti strategici di comunicazione, grafica e comunicazione, web e comunicazione di impresa con creative web specialist, il triennio misto tra i due percorsi, nuove tecnologie dell'arte, suddiviso in due bienni, new media communication per tutti gli aspetti relativi al video e animatore artistico digitale con tutti gli aspetti relativi all'animazione e agli aspetti tridimensionali. Didattica dell'arte per i musei con comunicazione e didattica dell'arte e scenografia con scenografia e tecnologia dello spettacolo. Il percorso degli studi può essere uniforme, quindi da grafica passo a grafica e comunicazione, oppure può essere disgiunto, quindi da web e comunicazione di imprese, magari passo a grafica e comunicazione. Stesso ambito, competenze differenti, ma serve per differenziare la propria professione. Ora entreremo nel vivo dei corsi di studio, uno a uno, ve li racconterò un po' a grandi linee, con l'aggiunta di qualche, diciamo, caratteristica del percorso, ma entreremo anche in quelli che sono alcuni progetti della nostra realtà. Quindi questo per supportare quello che vi ho raccontato prima, che è la didattica orientata al learning by doing, quindi all'imparare facendo. Il corso di pittura nasce insieme al corso di scultura e si differenzia da esso per tutte quelle competenze, ovviamente, progetture. Non mi serve specificarvi di cosa si occupa una persona che, uno studente che entra nel nostro percorso di pittura. Il nome lo rappresenta a vivo, degli aspetti teorici totalmente orientati alla storia dell'arte, quindi ai metodi, alle caratteristiche storico-culturali, in un viaggio, diciamo, suddiviso per epoche, ma con una forte importanza anche legata all'analisi, alla visione e alla conoscenza storico-artistica. Il corso parte dalla base, quindi tutti i nostri percorsi di studi partono da zero, non sono richieste allo studente delle competenze specifiche, ma si inizia a comprendere passo per passo, step by step, tutte quelle che sono delle metodologie, degli approcci, delle tecniche lavorative in questo ambito. Si parte dallo studio anatomico del corpo umano, della sua suddivisione, della sua costruzione. Si passa a delle tecniche pittoriche relative a diversi anche materiali, ad esempio il legno, le tavolette da legno, la tela, l'affresco, gli aspetti decorativi, l'incisione, gli elementi di calcografia e diverse anche tecniche moderne, digitali. Illustrazione, ad esempio, è un iberido in questo ambito perché è sia a mano libera, sia, diciamo, tradizionale, ma con una parte totalmente orientata agli aspetti editoriali e quindi anch'essi digitali. Fotografia e video sono due corsi, appunto, inseriti nel triennio di pittura perché sempre di più verso il termine del percorso ci si avvicina ad una serie di tematiche, una certa di visioni e di considerazioni che sfociano poi nel sistema contemporaneo. Alcuni progetti vengono proprio asseriti, due, uno ben destinto dall'altro. Crucifige di stampo, diciamo, religioso, una rappresentazione sacra, come vedete, una multitela, quindi ogni studente ha lavorato su una tela precisa, quindi anche qui, per concordare l'ingombro degli spazi, la grandezza degli elementi, la difficoltà è stata proprio nella costruzione omogenea del progetto. Poi queste multitela sono state assemblate, è diventata una tela gigantesca che è stata posizionata proprio sull'altare centrale del Duomo Nuovo della città ed è diventata una tela itinerante, quindi per una serie di settimane e di mesi è stata presente come se fosse una mostra itinerante in diverse altre realtà ecclesiastiche. Dall'altra parte abbiamo MacGuffin, una mostra, ma anche una contrapposizione, una contrapposizione tra degli stili completamente classici e degli stili completamente digitali, contemporanei anche. MacGuffin è un collettivo, è un collettivo nato totalmente in Accademia Santa Giulia, è nato dai nostri studenti, è un bando internazionale volto alla partecipazione di diverse tipologie di artisti a livello internazionale che hanno presentato le loro opere e gli studenti di pittura insieme agli studenti di didattica dell'arte pre-musei hanno lavorato sulla costruzione della mostra dell'evento creato poi in questo bunker sotterraneo. Scultura. Scultura è lo stesso percorso che parte da pittura, infatti i primi due anni sono molto simili l'unico dagli altri, si differenziano da competenze dedicate anch'esso alla tipologia dell'opera che viene realizzata. L'aspetto scultorio, stretto e diretto contatto con lo studio di diversi materiali, del legno, delle tecniche di fonderia, del marmo, delle pietre dure, della creta, dell'argilla, parte anch'esso da competenze, diciamo, metodologiche relative appunto a fornire allo studente oltre che la conoscenza di uno stile o la ricerca di un proprio stile, di una tecnica lavorativa, di una propria visione artistica, anche la crescita a livello metodologico, quindi step by step cosa si deve svolgere. Anche il corso di scultura parte da zero, quindi non sono richieste delle competenze pregresse, quindi non serve aver fatto una tipologia di istituto proveniente dall'ambito artistico, ma serve avere la voglia e la passione per frequentare questa tipologia di percorso. Alcuni progetti, opere più o meno grandi, con diverse tipologie di materiali, la nostra collaborazione con il Parco Giardino Sicurità, uno dei parchi più grandi d'Europa, ha presentato, presenta all'interno dei suoi spazi, delle sue aree verdi, opere realizzate dai nostri studenti, con diverse tipologie di lavorazioni, tecniche e anche rappresentazioni sacre, ma anche rappresentazioni totalmente contemporanee. Il Trofeo Foresti, che è un progetto che noi svolgiamo ogni anno, in realtà è una serialità che noi andiamo ad applicare, è la realizzazione di tre premi, primo, secondo e terzo posto, di una gara automobilistica storica della città, in ricordo degli scomparsi, signori foresti, appunto, a cui è dedicata questa gara automobilistica. I nostri studenti del primo anno, quindi studenti che eseguono questo progetto già dal primo semestre di corso, lavorano a stretto contatto con la terra cotta, che vanno a modellare, malleare e poi presentare con quella che è, appunto, un tema, un tema direttamente collegato all'evento, appunto, automobilistico, che può essere la velocità, l'eleganza, la tempistica. Quindi su questi temi si va a lavorare ogni anno e si eseguono tre premialità, che sono anche tre opere d'arte. Proseguiamo con il percorso di decorazione artistica. Il percorso di decorazione artistica è un mix, se vogliamo, tra pittura e scultura, perché lavora con quelle tecniche che possono essere interpretate anche come elemento artistico, sono, appunto, un elemento artistico. Le tecniche di mosaico, di vetrata, di incisione, di calcografia e di doratura, assemblate in un unico percorso ai fini della decorazione di uno spazio o di diversi elementi, anche decorativi ambientali. Alcuni progetti che si svolgono all'interno di questo percorso. Il più importante che abbiamo svolto negli ultimi anni è sempre in crescita, è DS Fasti, è la collaborazione che noi abbiamo attivato con un liceo della città e presenta, appunto, una metodologia, una vicinanza al progetto artistico che questi studenti di scuola superiore hanno insieme ad alcuni studenti di Accademia Santa Giulia. L'altro progetto importante è la decorazione della Sala Civica Barezani. La Sala Civica Barezani è una sala, conferenze, incontri, messa a disposizione della città di Brescia che necessitava di una riqualificazione e di una decorazione. Infatti, i nostri studenti in un dialogo contivo con l'ente comune di Brescia hanno realizzato una serie di proposte, di analisi, di revisioni e di progettazioni che poi sono state realizzate. Una sala che mette, appunto, in luce quelli che sono i caratteri distintivi o gli elementi distintivi della città. Arriviamo ad Interior Design. Interior Design è un percorso digitale, contemporaneo, ma anche totalmente orientato agli aspetti più classici, più legati al materiale. Forma la figura professionale dell'Interior Designer che è colui che si occupa della riqualificazione degli spazi interni, abitativi o commerciali, di un edificio. Sa arredare lo spazio captando dal mondo del design di diversi elementi di arredo, la poltrona di la lampada fatta in questo modo, ma sa anche uniformare e creare diversi elementi con le tecniche, appunto, dell'arredamento a su misura. Caratteristica che dà ampio spazio alla creatività di ogni studente, anche con l'inserimento delle competenze che derivano dalla conoscenza del materiale che ogni studente acquisirà durante il primo anno, da cui appunto prende il nome in decorazione anch'esso. Qui si va alla conoscenza anche di diversi software. Photoshop per l'elaborazione digitale dell'immagine, Cinema 4D ed AutoCAD fortemente ed altamente richiesti dal mondo dell'architettura di interni. AutoCAD serve per la gestione e la lettura e la riqualificazione degli spazi su quelli che sono dei disegni tecnici di planimetrie. Cinema 4D invece sono gli aspetti più relativi al mondo del render, quindi dell'immagine virtuale come quella che vedete nella slide qui presente o in queste slide successive. Qui ve le ho appunto raggruppate tutte. Qui in basso abbiamo AutoCAD quindi riqualifico uno spazio interno, interpreto e crea una planimetria. Cinema 4D serve per entrare poi nel vivo di una progettazione quindi durante l'esecuzione di un arredamento su misura, della scelta di diversi elementi da inserire in una stanza, in un ambiente vado ad inserirli anche digitalmente in questa immagine virtuale per mostrare al mio ipotetico cliente alla mia committenza finale come verrà svolto il progetto quindi come sarà eseguito e poi abbiamo la scelta di diversi elementi dal mondo del design dal mondo dell'architettura che dialogano insieme e sono inseriti in un unico progetto. grafica grafica è un percorso triennale messo a disposizione dei nostri studenti che lavora con tutte quelle tecniche legate alla comunicazione con tutte quelle tecniche legate al logo all'immagine coordinata per aziende parte anch'esso da uno studio storico artistico e legato al mondo anche del design grafico quindi un'analisi una visione una lettura delle principali correnti dei principali elementi pubblicitari nelle diverse epoche ma poi è anche esso totalmente digitale quindi va a lavorare a stretto contatto con quelli che sono i tre software principali del mondo della grafica photoshop illustrator ed indesign tre software con competenze differenti photoshop elaborativo di elaborazione digitale dell'immagine indesign software di impaginazione grafica di brochure riviste libri tutti quei materiali che necessitano di una impaginazione grafica ed illustrator per tutti quegli aspetti costruttivi e realizzativi di un elemento vettoriale un logo una grafica particolare un pattern eccetera il corso di grafica al suo interno andrà alla diciamo stretta conoscenza di quelle che sono le tecniche di lettering quindi di conoscenza del font del carattere e della sua costruzione grafica e creativa il corso di copywriting totalmente creativo orientato agli aspetti di scrittura creativa e alle conoscenze legate alle tecniche comunicative quindi allo storytelling ad esempio oppure a quegli elementi di conoscenza di attribuzione del nome di un prodotto i primi due anni sono presenti anche dei corsi dedicati all'illustrazione un'illustrazione che parte anch'essa da zero quindi che dove non è richiesta una conoscenza specifica all'interno del proprio piano di studi ma una conoscenza che parte da se stessi quindi prima devo avere una propensione una passione verso il mondo della grafica e dell'illustrazione e poi adatto le mie conoscenze e le mie competenze a quella che è l'esigenza richiesta e poi si prosegue vi mostro anche per questo percorso dei progetti uno è totalmente attuale ed è in prima linea è una campagna di ringraziamento al personale medico sanitario che ha fronteggiato e sta fronteggiando l'emergenza sanitaria in corso ai nostri studenti è stato dato carta bianca quindi hanno scelto la tecnica hanno scelto il carattere hanno scelto gli elementi da poter inserire e soprattutto hanno scelto il claim da utilizzare è stato poi selezionato in prima linea che ha diciamo rappresentato il progetto e fatto da immagine generale di tutti gli altri presentati corso di grafica lavora anche a stretto contatto con l'immagine visiva quindi con la costruzione di un logo o di una serie di elementi grafici per un feed di diversi canali social web e comunicazione d'impresa un corso triennale anche esso che va raccontato attraverso queste tre parole web tutto il mondo della programmazione informatica della costruzione di siti internet e posizionamento di un di appunto questo sito all'interno dei principali motori di ricerca aspetti di comunicazione quindi legati al contenuto della rete una comunicazione visiva fotografica o di video una comunicazione scritta legata al copywriting quindi alla capacità di scrittura della rete sempre più attenta anche ai fini marketing e di posizionamento del sito internet e collegandoci appunto alla parola marketing anche tutte quelle competenze di web marketing di posizionamento del sito online e di conoscenza di quelle che sono le principali tecniche di comunicazione di strategia applicate ad esempio ai social media eccetera alcuni progetti la creazione di interfacce grafiche e di siti internet caricati online la partenza per ogni progetto del corso di web avviene sempre attraverso un'analisi di mercato relativa appunto al brand o al prodotto specifico e alla comunicazione social online per book trailer film festival book trailer film festival è lo stesso progetto che abbiamo incontrato anche per il corso di grafica vedete una totale trasversalità e differente azione di contenuto in base al percorso nuove tecnologie dell'arte nuove tecnologie dell'arte è un percorso strutturato in due settori come vi ho raccontato prima una parte è totalmente dedicata al video quindi alle tecniche di ripresa di montaggio di postproduzione di colorist legate a diversi prodotti audiovisivi multimediali che possono essere ad esempio degli spot tv possono essere delle advertising animate possono essere delle interviste quindi delle riprese di reportage di documentaristica o di piccoli anche cortometraggi le tecniche partono dalle tecniche di ripresa quindi dall'utilizzo della regola dei terzi dei diversi campi dei diversi utilizzi della camera da presa poi il percorso prende una curvatura anche dedicata al mondo dell'animazione che apparentemente sembra non dialogare con gli aspetti dedicati al video in quanto il percorso di animazione è dedicato alla costruzione di un personaggio di una scenografia di una sua anche costruzione nell'attica del computer games fino a che ad un certo punto si inizia a dialogare tra l'animazione e il video ad esempio per quella animazione di loghi oppure ad esempio per quelle conoscenze che derivano dalla creazione di uno spot pubblicitario prodotto video però con delle tecniche relative al mondo dell'animazione 3D quindi dove non è presente una ripresa video ma sono presenti solo elementi grafici qui alcuni esempi appunto da documentazione visiva la creazione di videogiochi e di animazione tridimensionale e il dialogo tra i due un prodotto video una sigla con delle componenti visive digitali scenografia scenografia dedicato all'ambito dello spettacolo spettacolo musicale artistico dedicato al mondo del cinema del teatro al mondo della mostra eventi spettacoli culturali che necessitano di elementi scenografici la scenografia dialoga con l'utente all'interno della televisione all'interno della mostra dell'evento del festival del teatro perché aiuta a comprendere le dinamiche aiuta a comprendere gli spostamenti temporali e di location di una determinata opera o di un determinato spettacolo quindi aiuta molto l'utente e questa competenza è dettata da tante ore di ambito culturale dedicate appunto alla conoscenza della storia dello spettacolo della storia della musica della storia del teatro della storia dell'arte e della storia del costume che permettono ai nostri studenti di conoscere quello che è un insieme globale per approcciarsi a diverse tipologie di opere poi ci sono delle ore dedicate alla scenotecnica e alla scenografia uno di disegno tecnico cinema 4D anche in questo caso ed autocad e scenografia l'aspetto più creativo più realizzativo dell'aspetto appunto teatrale e cinematografico alcuni progetti uno spettacolo teatrale Oklahoma dove i nostri studenti hanno creato un po' tutta la direzione artistica quindi il posizionamento delle luci la location la scelta della scena il costume degli attori ma dall'altra parte un aspetto che è scenografico ma è in realtà un'installazione artistica ed è la nostra opera con cui siamo stati selezionati per la nostra partecipazione alla PQ Plus la quadriennale di Praga uno dei più grandi eventi nel campo scenografico siamo state due realtà accademiche italiane ad essere state selezionate e a poter partecipare a questo evento didattica dell'arte per i musei e comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico lavorano a stretto contatto con gli aspetti umanistici pedagogici e didattici nel campo artistico didattica è un viaggio a 360 gradi all'interno di tutta la storia dell'arte della lettura dell'analisi delle opere della gestione dello spazio espositivo del sistema espositivo per la creazione di una mostra o di un evento l'aspetto di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico invece è strettamente collegato agli ambiti più di valorizzazione del territorio di crescita anche turistica e di management e di marketing culturale con questa prima parte ho concluso diciamo la spiegazione dell'offerta formativa di Accademia Santa Giulia oggi vi do adesso vi do un po' di caratteristiche sui nostri percorsi e poi inizierei a parlarvi anche dell'altro corso di ITS macchina allorata la nostra didattica è strettamente concentrata su 30 studenti ma 190 docenti professionisti cosa significa che sì è un numero chiuso fissato a 30 studenti per corso qualora ci dovessero essere più richieste e più diciamo attivazioni si va allo sdoppiamento o al triplicamento della cassa e 190 docenti professionisti che sono appunto selezionati per le loro competenze professionali questa è un po' la nostra sede vi porto solamente alcune delle nostre immagini la nostra sede è attualmente visitabile fino al 28 maggio 2021 in quanto la prima settimana di giugno subirà una riqualificazione una risistemazione di alcune zone e l'ampliamento di alcuni spazi quelli che vi mostro sono appunto invariati vedete dei laboratori di arti visive di pittura di scultura di decorazione delle aule avete visto prima polivalenti e la nostra area bar e aula studio interamente dedicate ai nostri studenti l'accademia santa giulia mette a disposizione degli studenti delle tipologie di opportunità la prima è quella delle collaborazioni studentesche quindi 150 ore a supporto di attività di accademia santa giulia di comunicazione di orientamento di segreteria che uno studente può dedicare a supporto in aiuto diciamo a questi ambiti sono dei bandi delle borse di studio retribuiti per 150 ore stagio alcuni corsi hanno l'obbligo di stagio presente sul secondo o terzo anno per altri corsi invece lo stagio è facoltativo ma attivabile sempre dal secondo anno attivabile grazie ad una collaborazione con circa 2500 aziende e denti del territorio in forte espansione in forte crescita ma grazie alla presenza interna di un ufficio servizi al lavoro ufficio dedicato appunto all'ambito lavorativo ma accreditato da regione Lombardia l'altra opportunità è quella dell'Erasmus che da qualche anno si chiama appunto Erasmus Plus è un'opportunità importante di crescita sia da un punto di vista umanistico sia da un punto di vista culturale sia di conoscenza linguistica Erasmus Plus for studying quello che un po' tutti conosciamo di più da un semestre ad un anno accademico decido di trascorrere in una delle 19 realtà direttamente collegate ad Accademia Santa Giulia trascorro del tempo in quelle realtà mi formo studio porto avanti i miei esami rientro in Accademia Santa Giulia convalido i miei esami e proseguo con il mio progetto di studi da qualche anno tre esattamente è stato inserito Erasmus Plus for Twinship quindi una tipologia di stage all'estero da due mesi ad un anno fino ad un anno dopo la discussione della laurea retribuito all'interno dell'Unione Europea requisiti d'accesso quindi come si accede ad Accademia Santa Giulia attraverso due step il primo è il diploma quinquennale di scuola superiore quindi l'esame di maturità il secondo invece è il superamento quindi aver ricevuto le idoneità al colloquio motivazionale di ammissione che si fissa con la nostra direttrice è un colloquio che dura mezz'ora è conoscitivo e motivazionale conoscitivo per capire chi siete da dove venite cosa vi piace fare che percorso di studi avete fatto è motivazionale per capire se avete voglia e passione per investire tre anni del vostro tempo in una realtà accademica formativa in quel determinato corso e se siete a conoscenza di come è strutturato di come è organizzato e di quali saranno le diverse discipline da svolgere quindi non c'è un test d'ingresso bisogna semplicemente essere se stessi e dialogando con la nostra direttrice al termine dell'incontro saprete se siete idonei o non idoni ai nostri percorsi in caso di idoneità che mi auguro insomma a tutti i partecipanti oggi potete formalizzare l'iscrizione ora io vi tolgo questa condivisione e parto subito con un'altra tipologia di istituto che è appunto il percorso ITS ma prima vi volevo solamente ricordare che Accademia Santa Giulia è sempre disponibile per tutti gli interessati per dei colloqui di orientamento personalizzati online o in presenza sono attivabili richiedibili tramite il nostro sito www.accademiasantagiulia.it dal 24 maggio al 4 giugno invece terremo un evento di orientamento sono due settimane intensive di orientamento dedicate all'approfondimento di diversi corsi di Accademia Santa Giulia quindi della nostra offerta formativa ma anche creando un dialogo tra docenti ex studenti studenti opportunità svolte e con dei temi anche trasversali su più percorsi l'evento si chiama Santa Giulia Open Days e vi potete iscrivere tramite il nostro sito nell'apposita sezione Open Day in chat invece per chi ci sta seguendo da YouTube nei commenti qui in basso trovate un link che porta il nome di Words Match Words Match è un piccolo quiz un piccolo questionario chiamiamolo così che vi dà la possibilità di selezionare diverse parole che vi colpiscono di più che vi piacciono di più che sono relative ai nostri percorsi di studi ed Accademia e vi mostrerà al termine un elenco di corsi a cui potreste essere interessati avendo selezionato quelle parole requisiti di accesso poi vi voglio dare anche qualche novità una mi è sfuggita prima che è quella relativa alla sede un'altra novità di Accademia Santa Giulia è relativa alle borse di studio 100 borse di studio messe a disposizione degli studenti nel valore di 500 euro e sono suddivise in borse di studio per studenti che si iscriveranno al primo anno del triennio al primo anno del viegno e sono non suddivise per fasce di reddito ma sono richiedibili con l'iscrizione e la presentazione della propria dichiarazione ISE verrà fatta una graduatoria degli studenti che decideranno di partecipare i studenti che rientrano nel bando vinceranno questa borsa di studio di 500 euro le nostre iscrizioni sono aperte sono state aperte il primo di maggio quindi attualmente lo studente interessato che supera il colloquio di omissione con la direzione ha la possibilità di iscriversi e per chi si iscrive entro il 30 di giugno ha uno speciale sconto di 500 euro una speciale agevolazione di 500 euro sul costo della retta ed ora passiamo ad un'altra realtà un'altra realtà che è differente dal percorso accademico artistico ma si concentra sull'ambito tecnico lavorativo ed è ITS macchina Lonati innanzitutto partiamo dal termine il termine principale è ITS ITS è un acronimo una sigla sta per istituto tecnico superiore e si tratta di scuole di alta specializzazione tecnologica si tratta sostanzialmente di percorsi di studio nati dalla presenza di tre figure lo stato le aziende e gli enti di formazione le aziende ricercano nuove figure da inserire nel proprio organico ma non trovano figure altamente specializzate in campi tecnologici ma settorializzate in un determinato ambito quindi che abbiano avuto una formazione che sia stata in grado di adattare delle competenze a dei settori quindi decidono di istituire degli enti di formazione macchina allonati per creare dei percorsi ad hoc per la loro richiesta quindi per l'inserimento lavorativo nel corso degli anni poi entra la terza figura che è quella dello stato degli enti governativi che sponsorizza finanzia questi percorsi ma dà loro la possibilità di essere riconosciuti e quindi dà loro la possibilità di fornire al termine del percorso un titolo di studio attualmente in Italia i percorsi ITS sono 104 e sono suddivisi e dislocati in sei aree tecnologiche differenti in base ovviamente alle competenze e alle caratteristiche economiche e di competitività legate ad un segmento principale di una determinata zona geografica si tratta di ITS macchine allonati di sei corsi appartenenti all'area tecnologica delle nuove tecnologie per il medinite i numeri del percorso la durata dei percorsi ITS è di due anni quindi di una formazione breve rispetto al percorso universitario con un obbligo di frequenza dell'80% con la presenza costante di aziende 1600 che dialogano continuamente con l'ente di formazione generalmente l'anno è strutturato così un anno e mezzo di presenza quindi di lezioni laboratoriali di lezioni teoriche di lezioni tecniche e mezzo anno parte del secondo anno di studi 700 ad 800 ore dedicate allo stagio formativo e di crescita il numero è fissato a 30 studenti percorso questo è determinato da un test di ingresso ma questo determina anche un tasso di occupazione pari all'85% le lezioni come vi ho già detto sono di stampo teorico lavoratoriale e tecnico quindi orientate sulla conoscenza di determinati software di determinate conoscenze nell'organico diciamo di ITS macchina l'onati sono presenti è presente anche la figura di monitoraggio e di tutoraggio denominata tutor di aula e di stage che vi seguo in due momenti ben precisi il primo è quello di dialogo continuo tra i docenti la direzione e gli studenti per organizzare il piano lezioni per seguire monitorare diciamo i progetti da svolgere ma è un tutor di stage anche per l'attivazione e la richiesta alle aziende del vostro inserimento di stage curriculare al termine del percorso lo studente conseguirà un diploma di tecnico superiore le cui competenze acquisite all'interno del bienio appunto sono riferibili al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente H e QF questo livello cioè diciamo questo quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente è sostanzialmente una tabella che va a uniformare omogeneizzare le competenze acquisite da un percorso in diversi stati europei il quarto livello EQF è l'esame di maturità il quinto livello EQF è il percorso ITS e il sesto livello EQF invece è il percorso accademico o universitario anche per ITS macchina nonati si sta parlando della città di Brescia quindi siamo nella stessa città nella stessa sede anche ITS macchina nonati a tutta l'occupazione di un piano con i suoi laboratori e le sue attività i corsi sono sei stilista tecnologico 3D fashion designer ambito moda settore fashion ma totalmente uno l'opposto dell'altro uno stilista tecnologico totalmente sartoriale 3D fashion designer invece molto digitale e poi vedremo poi l'ambito retail fashion retail manager 4.0 quindi l'innovazione negli aspetti di vendita di gestione di un punto vendita dell'intera filiera di store manager e retail manager quindi di capacità organizzative e gestionali ai fini della vendita nei canali fashion product and design manager 4.0 vedete che questi due percorsi portano anche dei numeri una sigla in realtà che è 4.0 con la quale si racchiudono tutte quelle competenze di digitalizzazione innovazione informatica ai fini industriali product and design manager invece è un percorso dedicato al mondo del design che segue l'intero ciclo di vita di un prodotto il pensiero la sua prototipazione la realizzazione fino alla sua vendita e commercializzazione quinto percorso marketing e comunicazione per l'internazionalizzazione un percorso dedicato agli aspetti di marketing di comunicazione relative al mondo aziendale digital marketing and communication manager invece è un nuovo corso di cui avremo diciamo l'inaugurazione ufficiale con il mese di ottobre 2021 attualmente non c'è una prima annualità in quanto sarà istituita l'anno prossimo entrando nel vivo di tutti questi percorsi abbiamo il corso di stilista tecnologico con di creazione di un abito o di una collezione quindi gli aspetti di modellistica confezionamento taglio cucito e sfilata in passerella dell'abito si chiama tecnologico perché all'interno del percorso sono presenti delle conoscenze tecniche digitali innovative relative al tessuto al materiale ma anche ad una fortissima collaborazione che abbiamo con un'azienda che è Santoni quindi gruppo Lonati a cui apparteniamo che è il seamless il seamless è un tessuto senza cuciture che viene utilizzato nell'abito del prodotto d'avvegliamento sportivo o prodotto intimo le figure professionali in uscita sono differenti sono relative al mondo della moda e dell'intera filiera fashion quindi dal prototipista modellista che crea il capo 1 il capo 0 fino al confezionista che sa applicare diversi elementi tecnici e diciamo creativi ai fini della realizzazione di un abito o di una collezione l'ufficio stile è colui che pensa sa leggere le ricerche tendenze sa applicarle ad un determinato prodotto ad una determinata collezione oppure l'abito del progettista di abbigliamento che generalmente lavora a stretto contatto o in aziende direttamente collegate al pronto moda quindi a quel confezionamento veloce rapido e uniforme che può essere venduto anche per terzi il corso di 3d fashion designer invece appartiene sempre alla categoria moda ma è totalmente digitale in che senso? nel senso che la figura professionale in uscita ha competenze relative al mondo della moda della progettazione di un ambito e di una collezione quindi ambito sartoriale ambito modellistico e ambito di confezione ma sa progettare realizzare pensare un'intera collezione anche in modalità tridimensionale il percorso nasce ad aprile 2020 in piena diciamo lockdown e pandemia le aziende della moda internazionale si sono stoppate si sono chiuse sono rientrate diciamo ai loro utilizzi loro diciamo lavoro domestico come siamo stati un po' abituati tutti e quindi si è dovuto entrare in una trasformazione una trasformazione che ha portato a lavorare totalmente in digital ma questo come è possibile per delle aziende di moda che avevano uno stretto contatto anche sensoriale materiale legato al tessuto al disegno al bozzetto è stato possibile attraverso un software che si chiama Clo3D che è fortemente altamente richiesto dalle aziende ma totalmente digitale questo software velocizza i tempi di creazione di un abito di una collezione perché permette in tempo reale di apporre delle modifiche tecniche o di tessuto e le sa mostrare in pochissimo tempo e questo in primis velocizza l'iter e il processo di creazione al secondo punto sa dialogare in modo molto più diretto con i team interni di lavoro e sa portare avanti una progettazione molto più velocemente senza sprechi questo punto a favore diciamo dello spreco aziendale quarto corso fashion retail manager 4.0 tutte quelle competenze relative alla gestione alla strategia alla vendita online o offline online con l'ambito dell'e-commerce manager offline attraverso diverse figure professionali la principale è quella del district manager quindi colui che sa coordinare manager più store dello stesso brand definendo con gli enti organizzativi aziendali strategia obiettivi ma sa anche motivare e stimolare il team di lavoro il district manager lavora per un brand ma per più punti vendita dislocati su una zona geografica specifica lo store manager invece lavora in un unico punto vendita in un unico store e sa organizzarlo e gestirlo e poi abbiamo il retail manager colui che organizza lavora e gestisce l'intera procedura di vendita appunto e di commercializzazione del prodotto un'altra figura in uscita è il visual merchandiser che è colui che sa organizzare il punto vendita da un punto di vista di immagine di predisposizione della merce sa allestire la vetrina sa anche utilizzare i canali principali di comunicazione di storytelling applicandoli appunto alla narrativa di un prodotto alla creazione di corner specifici per determinati eventi oppure per l'arredamento e la costruzione dello spazio interno di uno store il corso di product and design manager 4.0 invece si stacca dall'ambito moda ma prende quelle competenze relative al mondo del design quindi dell'intero ciclo di vita di un prodotto qui all'interno del percorso lo studente lavora a stretto contatto con diversi software software utili per la progettazione tridimensionale la progettazione tecnica di diversi elementi nel mondo del design e nel mondo della progettazione rhino cirrus cinema 4d illustrator in design photoshop sono solamente alcuni dei percorsi che si svolgono dei software che si svolgono all'interno del corso di product and design manager nota importante che mi sono dimenticato di sottolinearvi in tutte le slide fino ad ora è la presenza di queste bandierine inglesi queste bandierine inglesi dettaglino che quella docenza specifica può essere svolta o totalmente in lingua inglese o con una co-docenza questo significa che parte del percorso è svolto in italiano e parte del percorso è svolto in inglese in basso nell'angolo invece trovate le ore totali 150 hours of study in english language per il corso di product and design manager significa che la somma di tutte quelle bandierine porta a 150 ore la principale figura professionale in uscita è quella del product designer quindi delle competenze di progettazione legate ad un prodotto qui dobbiamo fare una piccola parentesi legata appunto a quale prodotto perché il prodotto può essere la penna può essere il cellulare può essere la cornice ma è appunto questo che determina l'importanza di questo corso perché non è settorializzato in un ambito specifico quindi non mi occupo di product and design relativo all'ambito dell'arredamento o product and design relativo all'ambito della componente meccanica ma le competenze che mi vengono date all'interno di questo percorso sono trasversali su più settori quindi posso lavorare per creare l'ingranaggio di una componente meccanica di un motore posso lavorare per la creazione di un arredamento di una situazione di progettazione trasversale non fisicamente e settorialmente legata ad un determinato settore marketing e comunicazione per l'internazionalizzazione di impresa è il percorso che dialoga a stretto contatto col mondo aziendale quindi del marketing strategico operativo industriale quindi tutte quelle analisi ricerche advertising ma anche vendita relative ai due mondi strategia e diciamo comunicazione quindi messa in pratica degli aspetti strategici da un punto di vista anche creativo all'interno di questo corso la parola internazionalizzazione è diciamo rappresentata da una serie di lezioni elementi che portano dialoghi e progetti che porteranno il nostro studente a lavorare non solo a livello territoriale su una strategia o su un pensiero ma a portare un'azienda un prodotto un servizio ad un'analisi anche di posizionamento internazionale quindi che va oltre l'uso e il costume della nazione in cui si opera con quella determinata azienda ma anche per saper portare una internazionalizzazione aziendale legata anche al prodotto e al suo utilizzo la figura professionale in uscita è il marketing manager quindi una figura che sa analizzare esaminare determinati mercati ma sa abbinarli a determinati prodotti pensandone sviluppandone strategie attività promozionali indirezzate a specifici target quindi analizza un mercato relativo a determinato prodotto o a determinato servizio utilizzo sa applicarlo a tecniche di comunicazione e di internazionalizzazione con attività promozionali su specifici target qui le figure trasversali invece sono nel campo dell'internazionalizzazione dell'account quindi del saper far arrivare dei nuovi clienti alla propria azienda si occupa di strategic planner colui che sa pianificare delle tempistiche delle durate delle scadenze sia di vendita di commercializzazione di produzione event manager è colui che sa organizzare e creare degli eventi fieristici degli eventi aziendali attualmente purtroppo in sospeso e sales manager tutte le caratteristiche relative al mondo del retail che fa poi riferimento al primo percorso di store digital marketing and communication manager nuovo percorso con partenza ottobre 2021 qui le parole sono totalmente elencate nel titolo un marketing che non è più aziendale ma è totalmente digitale e una comunicazione totalmente organizzata pianificata ma anch'essa digitale le parole d'ordine sono storytelling web social media analisi e campo fotografico perché all'interno di questo percorso sono presenti diverse competenze più digitali quindi l'analisi del dato online il posizionamento del sito internet della mia attività commerciale nella rete la vendita attraverso i canali principali del web tutte delle tecniche di web marketing e di comunicazione aziendale orientate anche al web developer ai social media advertising e social media manager ma delle competenze anche specifiche su quelle che sono ad esempio la tutela e la gestione dei diritti digitali l'ambito video l'ambito fotografico e di narrativa e storytelling la differenziazione quindi tra i due percorsi quello di marketing tradizionale e di digital marketing e communication manager sta in competenze legate alla durata del percorso marketing chiamiamolo così marketing e comunicazione ha delle 160 ore di grafica e i 220 ore di digital marketing a fronte di 310 ore di marketing tradizionale marketing operativo strategico industriale quindi marketing aziendale digital marketing quindi il nuovo percorso ha quasi il doppio delle ore di software grafica 310 il doppio se non più del doppio 530 ore di digital marketing web developer professioni digitali conoscenze di analisi di pianificazione online e 130 ore invece la metà del marketing aziendale di marketing appunto aziendale strategico operativo il primo corso tratta gli aspetti di internazionalizzazione di auto imprenditorialità e dei project manager nel campo degli eventi digital marketing invece tutte le competenze relative alle professioni digitali con project work direttamente indirizzati ai campi laboratoriali digitali della rete i percorsi ITS sono cofinanziati dalla regione di appartenenza nel nostro caso sono realizzati su risorse a valere sul POR di regione lombardia e sono cofinanziati dal fondo sociale europeo i percorsi di stilista tecnologico fashion retail manager marketing and design manager 4.0 e marketing e comunicazione per l'internazionalizzazione hanno un costo di 1000 euro all'anno 2000 euro totali il percorso di 3D fashion design ha un costo di 2000 euro all'anno perché è differente il costo perché per l'utilizzo dei software i docenti altamente professionisti di questo settore il costo cofinanziato dalla regione è leggermente più alto del precedente il nuovo nato digital marketing and communication manager invece ha un costo attualmente applicato a chi diciamo dovesse iscriversi di 3500 euro attenzione però questo costo potrà subire un ribasso a 1500 euro nel caso in cui regione Lombardia con la prossima diciamo uscita dei finanziamenti pubblici dovesse deliberare un contributo pubblico appunto relativo a questo percorso come con i precedenti che abbiamo visto e notato IPS macchine allonati fornisce agli studenti tutti i software aggiornati per poter seguire le lezioni i progetti e diciamo tutta la metodologia progettuale di IPS macchine allonati direttamente dal pc di ogni studente per entrare in IPS macchine allonati ci sono diversi step il primo step è quello di essere in possesso di un diploma di scuola superiore di avere meno di 29 anni di essere in uno stato di disoccupato o inoccupato al momento dell'iscrizione e di essere domiciliato o residente in regione Lombardia queste queste caratteristiche sono applicate a chi volesse partecipare ai nostri percorsi in quanto sono cofinanziati dal appunto sia fondo sociale europeo sia dall'ente di garanzia giovane secondo step il colloquio di ammissione il colloquio di ammissione è un colloquio conoscitivo e motivazionale si svolge online con il territorio di ITS macchine allonati ha un punteggio di 44 punti sull'ammissione e si deve svolgere entro il 27 maggio 2021 per tutti coloro che volessero partecipare alla prima call di ammissione per 25 posti che si svolgerà il 3 giugno 2021 dopo questa data ovviamente ci saranno magari altre call di ammissione ma non per così tanti posti la prima call di ammissione è il 3 giugno 2021 vale per massimo 25 posti si svolge online ci si deve scrivere entro il 28 maggio alle ore 18 e è costruita su tre prove inglese informatica e cultura generale nell'ottica del corso scelto sul nostro sito www.macchinalonati.it sono presenti il bando il bando e il vade mecum per potersi preparare al meglio a questi tre test il colloquio di ammissione con un punteggio di 44 punti un test d'ingresso costruito su tre prove con un totale di 56 punti andrà a selezionare attraverso una graduatoria 25 studenti con un punteggio finale minimo pari a 70 se si hanno delle certificazioni linguistiche o informatiche linguistiche pari alla B2 o superiore in corso di validità si possono consegnare al momento dell'iscrizione e possono essere diciamo bypassati questi test informatiche invece servono una certificazione ECDL completa per approfondire di più diciamo i nostri percorsi ci sono diversi aspetti il primo è un appuntamento personalizzato di orientamento che noi svolgiamo per tutti gli studenti interessati il secondo invece è chi fosse già interessato di passare ad un già colloquio motivazionale oppure di partecipare al nostro open day per ITS macchine allunati che si svolgerà il 18 maggio tutte le informazioni e l'iscrizione su www.itsmacchinalonati.it io vi ringrazio per essere stati con me questo pomeriggio mi auguro che tutte le informazioni che io vi ho lasciato sia su Accademia di Belle Arti Santa Giulia sia su ITS macchine allunati vi possano servire per una vostra scelta futura e vi possono avere anche veramente per pochissimo di quello che vi ho raccontato aperto delle nuove prospettive e fatto ragionare su dei nuovi percorsi di studio sia accademici e sia legati ai mondo degli ITS io vi ringrazio a tutti per essere stati qui per avermi ascoltato e vi invito ufficialmente nuovamente a tutti quelli che sono i nostri incontri tutte le informazioni le trovate su www.accademia macchinasantagiulia.it e www.itsmacinalonati.it quindi lì potete trovare tutte le informazioni relative il piano di studi tutte le informazioni relative il percorso i prossimi eventi che svolgiamo e anche per richiedere direttamente delle informazioni a noi di ITS e di Accademia in conclusione in attesa che diciamo il collega entri per i saluti finali vi dico che non c'è una scelta corretta o una scelta errata nel proprio percorso di studi ma l'approccio universitario accademico e di ITS sono totalmente personali quindi come avete capito ci sono sì delle prove delle selezioni eccetera ma sono collegate al proprio essere ai propri interessi alle proprie conoscenze quindi mi auguro che il percorso di studio che sceglierete sia quello che volete fare voi e sia un percorso che rispecchi al meglio quello che è il vostro futuro il vostro futuro come persone e come lavoratori grazie a tutti per l'attenzione in bocca al lupo per il vostro futuro e buona pomeriggio a tutti